Richiedo sul gruppo della classe quali pagine bisogna fare In 26 abbandonano la conversazione Uno risponde da 102 a 190 Piango, piango, ma non mi arrendo Google, come studiare 88 pagine di storia in un minuto Cazzo ridete, si può fare, è provato, si può fare Ma non appena digitola C esce Chi ci sono gli alieni? Ritengo di vitale importanza approfondire l'argomento